Io ho sempre imparato in tutta la mia vita politica che la cosa più importante è ascoltare gli elettori e noi oggi abbiamo ascoltato gli elettori e gli elettori sono più avanti di noi perché i nostri elettorati si sono saldati, si sono fusi, gli elettorati del centro-sinistra e di tutta questa coalizione larga che io fin dall'inizio ho testardamente voluto costruire e questi elettorati oggi si sono fusi, si sono saldati e hanno consentito una vittoria trionfale al secondo turno delle elezioni municipali, delle elezioni amministrative. È un trionfo che non voglio celebrare col trionfalismo perché ci sono tanti elementi in questa giornata di oggi e in questo momento della nostra vita politica del Paese che impongono credo di tenere i piedi per terra e di essere molto attenti a quello che sta accadendo.